La Calabria può contare su 85.000 ettari di superficie coltivate con pratiche biologiche. L'obiettivo è difendere e far crescere questo patrimonio. Da qui un ulteriore impegno per tutelare e anzi elevare il grado di qualità delle produzioni biocalabresi. La Regione Calabria, assessorata all'agricoltura, ha messo a disposizione degli agricoltori 72 milioni in attesa di eventuali risorse aggiuntive provenienti dal fondo di transizione. La Regione Calabria ha compiuto notevoli sforzi nel settore del biologico. La seconda regione d'Italia e la sesta d'Europa è per superficie agricola utilizzata biologica. Noi abbiamo voluto rilanciare l'impegno. L'abbiamo fatto nel 2020 con un impegno triennale di 20 milioni di euro. Nel 2019 c'era un bando da 5 milioni di euro che la Comunità europea ha chiesto di annullare. Per cui un bando ulteriore del quale noi facciamo la pubblicazione per la conferma. Fermo restando che ci sarà una valutazione ulteriore per dare eventuali nuove risorse atteso che il pagamento del bando 2020 si è fermato a una percentuale del 56%. Noi vogliamo rilanciare ancora l'impegno sul biologico perché riteniamo che questo debba diventare un marcatore identitario della nostra Regione.